Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e quest'oggi ho il piacere e l'onore ed il privilegio di potervi presentare il nuovissimo campionato a squadre organizzato da simdrivers.eu il Totali Italy 2021. Allora ragazzi gli artefici di questo campionato geniale sono Fabio Napolitano e Pino Sciotti, questi due ragazzi che hanno ideato questa nuovissima formula di questo campionato che ha creato un hype intorno alla comunità di simdrivers veramente altissima perché sono mesi che parliamo di questo campionato finalmente possiamo lanciare le iscrizioni praticamente quando avrò pubblicato finito di pubblicare questo video saranno già lanciate perché gli gli attori protagonisti di questo campionato sono due auto che sono veramente fantastiche. Una è la, ve la faccio vedere subito, l'Alfa Romeo che è qui nel gruppo simdrivers 4C GT3 che è qui con tutte le skin personalizzate fatte dal nostro caro amico Fabio Napolitano che ha fatto un lavoro certosino bellissimo ragazzi guardate quante ce ne sono e la seconda è l'Alfa Romeo 155 V6 ragazzi il Totali Italy guardate che sono belle incredibile che lavoro che ha fatto Fabio una cosa veramente spettacolare. Allora la caratteristica di questo campionato che ci sono due novità importanti la prima è che sono stati selezionati un numero X di tracciati che verranno sorteggiati prima del lunedì antecedente la gara. Per 75 ore il server verrà attivato e seconda novità la griglia di partenza sarà costruita da diciamo la classifica generata dai migliori tempi segnati sul server in queste 75 ore. Ovviamente ci saranno due classifiche una a squadre e una a piloti e in più ci saranno anche dei premi ragazzi insomma li scoprirete andando a controllare sul sito www.simdrivers.eu dove avete tutte le informazioni del funzionamento il meccanismo del del campionato e come iscriversi come funziona il discorso di quale macchina prendere come quando eccetera eccetera quindi vi lascio assolutamente a andare sul sito di simdrivers.eu nella sezione dedicata appunto a questo campionato e io andrei subito ragazzi a provare questi bolidi giusto per farvi venire l'acqua di lì in bocca e per non farvi perdere troppo tempo per andare ad iscriverti perché sono 22 posti e al massimo diciamo è sensibile a 28 quindi andiamo subito a vedere prendiamoci una bella 155 ragazzi e scendiamo in pista ho scelto una pista a caso valle lunga d'accordo la versione 1.5 la extended perché è fatta veramente molto bene e andiamo a provare subito questa alfa 155 v6 e poi andremo a farvi sentire il rombo diciamo di questa alfa romeo 4c ma andiamo subito senti qua senti qua sta 155 ragazzi guarda qua mamma mia ragazzi mamma mia che rombo allora noi siamo bravi piloti allora ci fermiamo al semaforo e aspettiamo nel frattempo che la facciamo rombo rombare mamma mia partiti mamma mia va come un treno ragazzi conosco già qualcuno che starà impazzendo solo a vedere questo video mamma mia ragazzi che colpo mamma mia spettacolare spettacolare veramente un'auto micidiale vediamo dall'esterno come rende mamma mia ragazzi guardate qua mamma mia funziona pure i fari ragazzi spettacolare allora andiamo a vedere la 4c senza perdere altro tempo perché sicuramente qua già sarete scatenati per andare ad iscrivervi a questo campionato fantastico mi raccomando leggete bene l'istruzione che è importante e scegliamo una a caso vediamo la prima numero 8 e siamo sempre a balle lungo ovviamente lasciamo il tempo di caricare ragazzi guardate che è un campionato che è veramente bellissimo io devo ringraziare assolutamente fabio e pino per l'impegno che ci hanno messo per la realizzazione di questo campionato una cosa che ho dimenticato è che utilizzeremo sempre la classifica strongman per dare la possibilità di avere un campionato assolutamente equilibrato e la scelta delle squadre verrà fatto in base ai criteri che il simrider si utilizza da sempre e che fino adesso gli hanno dato ragione allora guardate qua mamma mia ragazzi guardate che audio guardate ascoltate anzi che audio mamma mia mamma mia fammi vedere spettacolo 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 Un mostro ragazzi Va bene Ma cosa fate ancora qua? Vi state guardando a me? Correte ad iscrivervi Dai che Sicuramente mancano pochi posti Dai ci vediamo alla prossima E ricordate lasciate un pollice in su Iscrivetevi al canale E ci pieghiamo presso in pista Ciao